I primi abitanti che incontrano i clandestini arrivando sono di solito i poliziotti, i funzionari della guardia costiera e i volontari che spesso sono religiosi. A volte sono anche le uniche persone che incontrano perché vengono rimandati ai loro paesi prima di poter sperimentare una vita nuova in Italia. Il libro è diviso in due parti, c'è una prima parte più di reportage e una seconda che osserva più da vicino e con tempi diversi è una comunità marginale a Milano che sta dietro un muro e nessuno la vede. È una comunità di invisibili che stanno al di là di una fenditura di un muro dove se non si sa che dietro c'è qualcuno non lo si sospetta. Il muro è dunque, a Milano esistono tante cosiddette baraccopoli, è una bruttissima parola, ma insomma sono degli insiemi, come dei villaggi spontanei che nascono proprio tra le pieghe della città, dietro grandi cartelloni pubblicitari, nelle ultime radure rimaste ancora vuote, non costruite, a ridosso magari delle periferie. Questa era speciale perché era proprio in centro, a pochi passi dal centro ed era nascosta dietro un muro. C'è un muro con una fenditura dove passava a stento un corpo di una persona e l'ho scoperta attraverso un gruppo di volontari che si chiama Naga a Milano che fanno queste perlustrazioni per offrire servizi sanitari ed è stata per me una scoperta abbastanza sconvolgente perché appunto era a pochi passi dal centro e ho cominciato a frequentarla cercando di strappare a queste persone che si nascondono un po' di fiducia abbastanza perché mi raccontassero e mi facessero osservare le loro vite. Il titolo è il nome di un africano che ho realmente incontrato. In Africa si usa dare dei nomi che sono dei proverbi e sono anche così dei viatici alla vita e credo sia stato importante per una certa fortuna che il libro ha avuto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!